Salve a tutti maledetti, negli ultimi giorni argomento hot del tubo è il lamentarsi di alcuni youtubers, game players, riguardo il non avere lo stesso riscontro di persone che guardano un video. Partiamo da lontano, ognuno ha dato una sua interpretazione riguardo lo sfogo, chiamiamolo sfogo, di Joker. Il video lo trovate qui, quindi fatevi una vostra idea. In caso, per farvi degli esempi, Pandemion e Degli hanno detto che il suo sfogo deriva dal calo di views, Marcus Krohn ha detto che il suo sfogo è derivante dal non riuscire a portare dei contenuti che a lui piacciono di più per il basso riscontro ottenuto quando ci ha provato. Io cosa credo? Un cazzo. Io penso. E cosa penso? Ma vediamo di analizzare i due punti di vista. Per il primo gruppo c'è alla base il suo lamentarsi, un fatto reale, cioè che qui stiamo parlando di lavoro e quindi il calo di attenzione che i suoi seguaci gli sta andando, senza che parlo di views sia in generale sia rispetto a alcuni format, e questo calo di attenzioni si ripercuote sulle entrate, che ovviamente non vengono intaccate tantissimo, ed un calo provvisorio, una flessione di attenzione su dei format, non vogliono dire che sia finendo l'era dei gamer sul tubo. Ma comunque questa flessione è abbastanza evidente, ed essendolo, facile che comunque ci si comincia a preoccupare. Marcus ed altri invece pensano che sia stato un errore di termini l'aver detto views, quando invece lui pensava esclusivamente all'insoddisfazione personale nel portare contenuti nuovi, che lo avrebbero fatto, diciamo, sbroccare. Ed io cosa penso? Penso che il motivo del video sia una crasi tra i due argomenti, perché sì, capisco perfettamente la delusione del cercare di portare contenuti nuovi, cioè, pardon, giochi nuovi sul canale ed avere un così basso riscontro dal pubblico. Io ho fatto video sulla percezione dell'arte, video monologhi bergonzoniani, eppure i miei video più visti sono quelli di Favijai contro Gavin Believe e quello su Zoda di Pre. Cosa dovrei dire? E allora qual è il problema? Lamentarsi? Mh, ni. Non credo che serva a nulla lamentarsi, non cambia niente a mio parere, ma il carattere mio è diverso dal tuo, dal suo e dal suo. Non è un problema di guadagno, non è un problema di, eh, ma non si lamentassero, guadagnano giocando, no, non me ne frega un cazzo buon per loro se gli piace, o anche se non gli piace ma lo fanno solamente per lavoro, non è un problema. Io ho sempre detto che a mio parere i grossi problemi riguardo ai gameplayers sono sempre stati due, italiano e vendite illegale di crediti. Nelle seconde vi ho già parlato, è semplicemente illegale rispetto al gioco, quindi, amen. Delle prime il problema è proprio il fatto che, essendo guardati da una media bassa di bambini, sarebbe meglio un linguaggio corretto e non sgrammaticato e lasciate da parte il, ah, io so di Roma e parlo così. No, parli così perché non conosci l'italiano. Ma non è un dramma, se non ti vedessero bambini, ma, ehi, è una mia considerazione rispetto alla pedagogia che dovrebbe esserci per me, sempre dietro ad un intrattenimento per minori. Ripeto, è una mia opinione e, bon, sono miei punti di vista, che se voglio posso dirli. Ma, amen. Il problema è lamentarsi con i propri iscritti, o comunque con chi ti segue abitualmente per un format, rispetto al fatto che non ti seguono su altri format. E qui non stiamo facendo i vaghi, non si è sbagliato con i termini, né con nulla. Lui come Gab ha fatto un video, e va bene. Dicendo che era deluso perché le tue ospitative riposte su alcuni video sono state rovinate dal poco coinvolgimento, e va bene. Ha spiegato perché mette i titoli di un certo tipo, e va benissimo. Ha spiegato perché crea un video di FIFA al giorno, e va bene. Ma ti lamenti con i tuoi iscritti? Ma siamo seri. Marcus ha fatto l'ottimo esempio della pizzeria, dove se uno va ed è abituato a mangiare la margherita dappertutto, non preverà mai la pizza particolare dello chef. Quindi ovvio che lui venda più margherite che altro, ma vi immaginate che venga lo chef a lamentarsi con voi perché non avete ordinato la pizza con sperma e cavolfiori verdi? Dicendo, perché io mi impegno, ne crodi diverso ogni giorno e vuoi sempre la margherita? Ma io ti do uno sganassone e non mi vedi più, ma stiamo scherzando. I Meganoidi fecero il boom con un paio di canzoni ska molto pop. Meganoidi appunto e supereroi contro la municipale. Hanno venduto non si sa quante copie e poi hanno continuato a voler creare ciò che gli usciva e non ciò che gli imponeva il mercato. Hanno venduto pochissimo rispetto a prima ovviamente. Qualcuno di voi ha visto il cantante di un altro andare in giro a fare un'intervista e dire abbiamo venduto milioni di copie con l'altro cd ora solo 200. Io provo a farvi sentire il mio stile ma pare che non interessa a nessuno. No, ma non esiste. Cioè, aspettate. Certo, puoi farlo. Certo, non è illegale. Certo, il canale tuo fa quello che cazzo vuoi. Certo, quello che te pare. Ma posso dire che non è una mossa che reputo molto acuta? Posso dirlo, sì. Che personalmente mi fa anche un po' ridere? Io credo che posso dirlo. Considerazione personale. Anche perché, ragazzi, continuate a parlare degli iscritti come se quel numero valesse a qualcosa, oltre alla possibilità di inviare feed a 700.000 persone riguardo all'uscita del tuo video o comunque delle tue attività sul canale, che è tanto. Ma non vogliono dire altro. Non vogliono dire che puoi assicurarti un tot di visualizzazioni, di watch time, di percentuali di visualizzazione, di fidelizzazione. Quindi non potete credere di avere 700.000 amici che sono interessati ad ogni vostro video. Ma io so che voi lo sapete che non è così. Ma sapendolo, perché vi lamentate con loro? È questo che non capisco. Pensiamo davvero che 700k di Joker siano persone diverse da quasi milioni di ciccio gamer? E di altri tanti gamers di alto livello che hanno avuto la bravura a crearseli. Perché in quanto imprenditori di loro stessi, esclusivamente sul tubo, nulla da dire. Ma non sono 700.000 persone diverse ogni volta. Magari quelli vogliono solamente un contenuto. E per carità, la spiegazione c'è tutta. Il dispiacere c'è tutto. Ma è lamentarsi con chi ti segue. Perché? Ragazzi, magari hanno visto i tuoi nuovi video e gli fanno cagare. Non avete preso in considerazione quest'ipotesi? Oppure per i tuoi clienti. La margherita è l'unica pizza che gli interessa perché sono venuti nella tua pizzeria per quello. Punto. Sei tu a dover scegliere. Non incazzarti con loro. Ok? Ha ovviamente addirittura ridondante ricordarvi che da questo ad insultare i gamers ce ne passa. Se ne parla. Posso dire la mia considerazione rispetto ad un argomento. Blah blah. Ma ho visto commenti davvero idioti di classici. Mio padre lavora 9 euro al giorno. Eh. E quindi? Perché questa frustrazione? Il mercato funziona così. Fatevene una ragione. Bello a tutti e statemi discretamente bene. Il vostro Vic Leib. Grazie a tutti.